Il ministro Colombo, accompagnato dal professor Balletta, mira i due nuovi gioielli della Fiat, la 1300 e la 1500. Pubblico d'eccezione per una macchina d'eccezione. Le nuove vetture della Fiat convertiranno i nostri divi, fino a ieri fedeli clienti delle grosse auto straniere. Amedeo Nazari si è già convertito. Il cantante Paolo Bacilieri non vede l'ora di provarla. E il tenente Sheridan questa volta non dovrà spremersi le meningi, la soluzione a tutti i suoi problemi automobilistici è lì a portata di mano. Anche un bambino lo capisce. Si brinda la nuova 1300, solo il sor Clemente ha ancora qualche dubbio, ma si sa, lui è uno che viene dal paese. Mentre per Aroldo Thieri, che macchina!